Giro di vite della Questura di Arezzo sul consumo e l'abuso di alcolici tra giovanissimi. Nello scorso weekend, infatti, su disposizione del questore Fabio Salvatore Cilona, sono stati svolti dalla squadra amministrativa della divisione Pasi della Questura di Arezzo una serie di controlli in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e in una discoteca del centro cittadino. Sono state così accertate tre violazioni amministrative che prevedono sanzioni pecuniarie sino a 1000 euro presso i locali di somministrazione alimenti e bevande. Per quanto riguarda invece la discoteca è stata rilevata la mancanza del cartellino che consente l'immediata individuazione del personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza che comporta una sanzione fino a 1500 euro. I titolari dei locali sono stati inoltre sensibilizzati sulla necessità di rispettare le regole che disciplinano il settore. I controlli saranno poi intensificati con l'approssimarsi dell'estate sotto la lente di ingradimento i locali della movita del centro e della periferia di Arezzo.